siete pronti per la settimana della moda milanese 2022 finalmente ce l'abbiamo fatto è confermato tutto quanto dal 22 fino al 28 milano fashion week 2022 vi aspettiamo tutti in presenza dai ormai le normative sono non così rigide quindi vi aspettiamo veramente in tanti le nostre aspirante delle modelli gli artisti i nostri brand interessati a svilupparsi nel mondo del showbiz dello spettacolo per voi l'agenzia gm moda e pubblicità qui a milano vi aspetta il 26 di febbraio tutti quanti qui mi raccomando dovete avere l'accredito avete già tutte le informazioni in merito noi vi aspettiamo con stile mi raccomando i più grandi i più piccoli tutti vi aspettiamo il 26 di febbraio dove qui a milano milano fashion week per voi è stato erina più ordea iris tv come sempre con stile presto i saw fire 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 i saw fire fireworks ciao ciao musica musica